Amici del Soft Libre Open Source, benvenuti o bentornati in questa 177esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del Soft Libre Open Source della settimana appena trascorsa. Questa, anche in questo caso, è una puntata video, come potete vedere dal mio bel faccino se mi seguite su YouTube e colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcos Box siamo a un poco ormai da raggiungere la storia dei mille iscritti, quindi se ancora non l'aveste fatto iscrivetevi in modo tale da supportare il canale e da supportare il blog, anzi iscrivete e mettete il pollicino, come dicono tutti quanti gli YouTuber quelli figli. Ma apriamo questa puntata con una notizia che riguarda Canonical, che ha annunciato una collaborazione con Qualcomm Qualcomm, lo conoscete tutti, è il famoso leader mondiale nella progettazione e produzione di System Monarchip Anzi, come dice Pierpaolo, ma lo sono scritto perché sono poi si incazza, perché mi ha fatto una precisazione il mio amico Pierpaolo ci tiene a sottolineare che non è proprio così, ma è il leader mondiale cioè un'azienda che si occupa di design fabless, quindi progetta i chip, però non li realizza perché effettivamente non li fa, non li realizza direttamente, però così si sta riportato nel comunicato stampa di Canonical e così lo riportano tutti quanti, quindi ho utilizzato questa definizione vabbè, a parte questa precisazione che è doverosa da parte di Pierpaolo e c'ha ragione, dovevo scrivere così sull'articolo questa collaborazione porterà Ubuntu e Ubuntu Core sui dispositivi basati sul processo di Qualcomm inoltre saranno a disposizione anche delle immagini di Ubuntu e Ubuntu Core ottimizzate per il socco Qualcomm consentendo quindi alle aziende di soddisfare le esigenze normative di conformità e di sicurezza per l'intelligenza artificiale nelle leggi e per il mercato dell'IoT con distribuzioni con un supporto di 10 anni quindi una grande manna dal cielo per tutti quanti gli sviluppatori interessati a utilizzare il sistema operativo di Canonical su device con chip Qualcomm che si sta muovendo anche qualche cosa in futuro per quanto riguarda i processori Qualcomm che equipageranno nell'immediato futuro computer e portatili di Mezzomondo perché sapete bene, negli ultimi anni Qualcomm sta spingendo anche verso il mercato dei computer portatili con processori ARM magari questa notizia vista in uno spettro anzi una finestra temporale molto più ampia significerebbe anche che magari Canonical sta stringendo qualche accordo in modo tale da essere la prima oltre a Microsoft a fornire un sistema operativo perfettamente compatibile con processori ARM ma chi lo sa non lo sapremo se non aspettando nell'immediato futuro quindi lo sapremo fra un annetto circa perché da quel che si vocifera in quella finestra temporale inizieranno ad arrivare i primi prodotti equipaggiati con processori Qualcomm lato consumer quindi aspettiamo, aspettiamo come si evolverà il mercato dei portatili nel futuro e restando sempre in tema Ubuntu è stata rilasciata la versione beta di Ubuntu 24.04 LTS c'è stato un piccolo ritardo nel rilascio di questa versione perché come ben saprete c'è stato il problema della backdoor di XZ che ha costretto gli sviluppatori di Canonical a ricompilare tutta quanta la distro e quindi il rilascio di Ubuntu è stato slittato di qualche giorno adesso la beta è disponibile in testing fino al giorno 17 quindi per qualche altro giorno quali sono le novità che vedremo su Ubuntu 24.04 LTS? beh, abbiamo un'ulteriore evoluzione dell'installer scritto in Flutter anche se a mio avviso è un installer che risolta comunque inferiore al vecchio installer e soprattutto rispetto a Calamare se io lo trovo meno versatica e meno potente per quanto riguarda gli utenti nerd che hanno magari configurazioni un po' particolari come nel sottoscritto che io ho due dischi separati uno per Windows e uno per Linux con due partizioni EFI separate quindi io vi ando a separare i sistemi operativi per non fargli fare accazzotti e nel caso del nuovo installer ho effettivamente difficoltà a farlo a configurare tutto come si deve con il nuovo installer magari mi devo mettere un po' a smanettare per riuscire a capire dove sto errando introduce poi Gnome 46 che come sapete va a perfezionare ulteriormente l'ambiente desktop ovviamente Gnome 46 con il solito set di estensioni di Canonical che vanno a migliorare aspetto e usabilità di Gnome infine troviamo il kernel Linux 6.8 probabilmente lo inizierò a mettere su macchina reale se riesco sempre installer permettendo nei prossimi giorni in modo tale da darvi anche alcune impressioni su macchina reale sapete bene io preferisco sempre stare a testare le distribuzioni su macchina reale è raro che vado a testare in macchina virtuale perché voglio capire sul ferro come gira in modo tale da avere anche un metro di paragone per quanto riguarda reattività e quant'altro quindi inshallah se Dio vuole nei prossimi giorni formatterò con il mio enorme dispiacere formatterò la partizione che attualmente ospita anzi il disco che attualmente ospita PopOS per andare a dare un po' di attenzione amorevole Ubuntu 24.04 magari se voi l'avete provata lasciate un commento fatemi sapere come vi trovate so già che alcuni di voi l'hanno provata e hanno litigato anche anche loro con l'install che andava a crashare e quant'altro io già l'ho avuto con il precedente rilascio appena è stato introdotto il nuovo install ho avuto problemi tant'è vero che all'epoca era stata rilasciata con la 23.10 anche una edizione con il vecchio installer spero che venga rilasciata anche un'edizione con il vecchio installer in corrispondenza del rilascio di questa nuova LTS vabbè passiamo adesso ad un altro argomento però restando sempre poi in famiglia Ubuntu Julian Andres Claude ingegnere del software presso Canonical nonché contributore dell'Advanced Package Tool conosciuto da tutti quanti come APT ha postato sul suo profilo di LinkedIn uno screenshot di APT 2.9 la nuova versione in sviluppo del gestore a riga di comando di pacchetti per Debian e tutte le persone derivate come Ubuntu e Linux Video giusto per fare un esempio vi faccio vedere questo è uno screenshot che vi mostra la differenza a sinistra tra tra il nuovo la nuova versione di APT e a destra quella vecchia con APT Get e come potete vedere sono state aggiunte una serie di formattazioni del testo con tabulazioni e quant'altro ma soprattutto sono stati aggiunti anche dei colori le dipendenze da installare ad esempio adesso sono segnate in verde quelle da rimuovere in rosso poi viene fatto un sommario prima dell'aggiornamento che vi dice che ne sono state installando Evolution le dipendenze e vi rega tutte le dipendenze in verde vi dice quali sono i pacchetti suggeriti vi dice che cosa va a rimuovere e ve lo mostro in rosso e poi vi fa un sommario con tutto quello che l'installazione di quel pacchetto comporta quindi vengono installate 23 dipendenze vengono rimosse uno eccetera eccetera con la dimensione e quant'altro ed è diciamocelo è una cosa molto molto bella hanno fatto un bel lavoro adesso è tutto più chiaro più immediato più leggibile più usabile e complimenti finalmente hanno deciso di portare nel futuro APT anzi di aggiornare APT anzi ai vari gestori pacchetti di altri sistemi perché APT diciamo ci aveva rimasto un po' indietro c'erano stati anche altri altri gestori pacchetti che nel tempo avevano cercato di metterci una pezza con cose del genere quindi colore e quant'altro però adesso meno male che gli sviluppatori hanno deciso di copiare bene e migliorare e integrare il tutto in APT APT 2.9 è stato già caricato all'interno dei repository di Debian a stable e lo vedremo in forma stabile quindi con la versione 3.0 a partire da Ubuntu 24.10 e a partire dal rilascio di Debian 13 Debian 13 che però verrà rilasciata nel 2025 quindi ci manca un annetto e passiamo adesso a una editoriale che è stato pubblicato da Luca anzi editoriale esperenziale che racconta che cose gli è capitati in ufficio qualche giorno fa con Thunderbird che gli aveva fatto un brutto casino su tutti quanti delle macchie sul quale era installato come sempre per i post di Luca non vi dico nient'altro vi invito a leggere quanto ho scritto e vi invito a lasciare un commento se magari questa cosa vi può tornare utile anche a voi la soluzione che ha trovato per risolvere questo problema di posta ingombrande di Thunderbird e passiamo alle ultime due notizie di questa breve puntata del podcast di Marcos Box due notizie una che riguarda un documentario che ho pubblicato sulle pagine del blog e l'altra è una non recensione che ho pubblicato per quanto riguarda un prodotto il documentario è un vecchio documentario che è stato pubblicato nel 2018 è stato pubblicato per la prima volta ed è un documentario che dà il titolo da Microsoft di Gemma l'Europa come una colonia software e il documentario è stato realizzato nel 2018 dicevo dai giornalisti Harald Schumann e Harpad Bondi spero di averlo pronunciato bene ma ci sono le gli accendi quelli strani sulle A che ha svelato gli accordi sotto banco utilizzati da Microsoft per poter mantenere il proprio monopolio e ha spiegato anche come il governo di Monaco abbia distrutto di proposito il progetto Rimux a scopo di Gucro è un documentario molto interessante vi invito a guardarlo so che a molti di voi potrebbe non interessare perché non sono interessati a queste dinamiche di adozione di software libero all'interno delle istituzioni perché alcuni partono scoraggiati altri non se ne fregano proprio di queste cose soprattutto l'italiano milo non se ne frega proprio per niente però a mio avviso questo è un argomento molto importante che i partiti anche dovrebbero prendere in seria considerazione quando si tratta di gestire la cosa pubblica perché il software libero non soltanto è una cosa che porta risparmio economico sul medio e lungo termine ma soprattutto è una questione di principio perché i formati aperti consentono di non essere dipendenti dalle software house e ovviamente per tutti quanti i problemi connessi alla privacy e quant'altro l'utilizzo di programmi proprietari non è una cosa tanto saggia da poter utilizzare all'interno delle pubbliche amministrazioni dove vengono trattati i dati pubblici dati sensibili di noi cittadini comunque vi invito a guardare il documentario e a lasciare un commento sulle pagine del blog infine come ultima notizia di questa 177esima puntata vi invito a guardare la non recensione del Powerbank Anker 622 un Powerbank MagSafe dotato di tecnologia MagSafe che ho acquistato per l'iPhone 15 ormai ve lo posso dire ho acquistato l'iPhone 15 come sostituto dello Xiaomi vi ho fatto anche nelle scorse settimane una breve recensione delle impressioni a caldo che sto avendo con un device equipaggiato con iOS dopo tanti anni di militanza nel mondo Android e ho acquistato poi diciamo così in virtù dell'imminente arrivo della stagione estiva un Powerbank perché in estate si sa spesso si sta fuori non si ha la possibilità di collegare a una presa di corrente il proprio device e ho acquistato questo prodotto questo Powerbank che è dotato di tecnologia MagSafe quindi si appiccica allo smartphone in maniera calamitata è molto comodo e molto utile vi invito a guardare la recensione vi invito a farmi sapere se anche voi avete acquistato simili prodotti se avete un iPhone e vi ho lasciato anche il link referral per acquistarlo vi dico però non prendetelo anzi vediamo subito quanto costa attualmente monitorate il prezzo di questo di questo Powerbank perché attualmente a quanto sta a quanto sta a 49 no qui in cerco adesso lo potete prendere perché adesso sta a 49 99 meno 15 euro quindi un buon acquisto non prendetelo quando sta a prezzo pieno perché ovviamente 50 euro ci sta anche altri prodotti migliori quindi l'invito è seguire sempre la pagina con l'offerta di Marcosbox e a seguire anche i prodotti linkati in modo tale da acquistarlo al momento giusto al prezzo giusto ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 177 puntata del podcast di Marcosbox come sempre io vi invito a seguirmi sui principali social mi trovate su facebook mi trovate su x mi trovate su youtube con il canale di Marcosbox al quale vi invito nuovamente a iscrivervi numerosi siamo a quota 952 circa quindi manca poco ad arrivare a 1000 se ancora non l'aveste fatto iscrivetevi perché è molto importante per supportare il blog iscrivete e mettete anche pollice in su quando vedete qualche puntata potete seguirmi sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate poi con il mio profilo personale su Google qualora volete seguirmi mi trovate su mastodon mi trovate soprattutto su telegram dove c'è un canale principale dedicato alle notizie di Marcosbox che potete utilizzare anche come diciamo così come feed reader perché in modo tale da restare sempre sintonizzati sulle ultime notizie postate trovate poi la community telegram di Marcosbox alla quale vi invito a iscrivervi numerosi dove non si parla soltanto di si parla anche di tanta altra roba quindi quel che volete parlare c'è il cazzeggio libero e infine vi ricordo che è presente un canale telegram dedicato alle offerte Amazon tramite il quale potete acquistare prodotti da Amazon tramite i miei link affiliazione e una piccola percentuale mi verrà data da Amazon e così potrete supportare a costo zero il blog infine vi ricordo che potete anche supportare il blog acquistando rinomando la vostra VPN su NordVPN che oramai è la VPN che utilizzo da diverso tempo da diversi anni qui in basso troverete voi come sempre il link con il codice affiliazione alla proposta corrente di NordVPN che potete sfruttare per supportare il blog lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao